Fisch esprime il suo pieno sostegno alla proposta di legge numero 992 sul quale il presidente vincenzo falabella è stato udito presso la settima commissione permanente del senato il provvedimento che mira a valorizzare il ruolo speciale dello sport rappresenta un passo avanti significativo verso una società più inclusiva e coesa l'attività sportiva non solo rafforza la salute fisica e psicologica ma contribuisce a rimuovere ostacoli sociali e a costruire un tessuto comunitario più solidale la memoria presentata da Fisch sottolinea l'importanza di rendere lo sport accessibile a tutti attraverso misure che includono programmi specifici per le persone con disabilità la formazione di personale qualificato e la definizione di standard minimi per i servizi sportivi adattati la federazione propone inoltre che tale misure vengono integrate in ogni iniziativa dedicata al potenziamento dello sport a livello scolastico e territoriale accogliendo con favore l'attenzione dedicata al ruolo educativo dello sport Fisch sottolinea la necessità di garantire che ogni intervento legislativo risponda ai bisogni concreti di tutte le fasce di popolazione i vincuse e quelle più vulnerabili la promozione dello sport come veicolo di inclusione sociale e coesione è una priorità che condividiamo pienamente lo sport è un diritto ed un'opportunità per tutti ospichiamo che vengono introdotti i correttivi necessari per rendere questo disegno di legge davvero inclusivo e capace di rispondere alle esigenze di ogni cittadino